allora eccoci qui siamo pronti per procedere con il nostro studio e la trattazione di economia politica siamo nel ramo della microeconomia e l'argomento che andiamo a studiare e che andiamo a prendere in considerazione è il famoso vincolo di bilancio allora quando studiamo il vincolo di bilancio dove siamo quando studiamo il vincolo di bilancio ci troviamo all'interno della teoria della scelta ottima del consumatore ovviamente ti starai chiedendo ma che cos'è la scelta ottima del consumatore si tratta di quella parte della microeconomia che studia il comportamento di uno specifico attore economico il consumatore cercando di andare a comprendere di capire in quale modo va a effettuare delle scelte allora come mi piace a me ti pongo subito questa domanda che cos'è il vincolo di bilancio nelle mie lezioni ho avuto modo di fare con studenti di facoltà diverse e università diverse mi sono ritrovato sempre a partire con l'illustrazione di un argomento grazie alle domande sono un momento che le domande migliorino la capacità di attenzione e concentrazione dello studente allora partiamo da una prima osservazione il vincolo di bilancio è uno strumento e quindi chiediamoci a cosa serve questo strumento qual è la sua funzione se lo studio insieme alla curva di indifferenza ci permette di determinare la scelta ottima del consumatore se lo studio da solo mi permette di conoscere quali sono i panieri che il nostro consumatore può acquistare parlando di panieri chiediamoci subito che cosa è un paniere un paniere è una combinazione di beni allora tracciamo un grafico questo grafico e anzi è più giusto dire tracciamo un piano cartesiano cosa mettiamo sugli assi mettiamo bene due bene uno vediamo tutta una serie di puntini questi puntini sono i famosi panieri e che cosa sono i panieri i panieri non sono altro che combinazioni dei due beni adesso vedremo insieme un esempio di grafico che riguarda la scelta ottima del consumatore ovviamente non ti preoccupare lo andiamo a studiare nel dettaglio fra poco allora che cosa è questo grafico è una semplice anticipazione di quella che risulta essere la scelta ottima del consumatore che come scopriremo è data da che cosa è data dalla condizione di tangenza fra la curva di indifferenza più alta non ti preoccupare andremo a studiare nel dettaglio che cos'è una curva di indifferenza e quali sono le sue caratteristiche e il vincolo di bilancio che osserviamo nel piano cartesiano come potete vedere dal grafico affinché sia possibile parlare di scelta ottima del consumatore è necessario andare a conoscere sia il vincolo di bilancio che la curva di indifferenza adesso soffermiamoci solo ed esclusivamente sul vincolo di bilancio come studiare il vincolo mi piace raccontare che è possibile studiare il vincolo di bilancio da tre diversi punti di vista andiamo analizzare insieme il primo punto di vista il vincolo di bilancio studiato dal punto di vista economico il vincolo di bilancio ci indica cosa il consumatore può acquistare e cosa il consumatore non può acquistare inizia ad associare il termine vincolo di bilancio ad un vincolo che hai quando vuoi fare degli acquisti secondo punto di vista dal punto di vista grafico che cosa sto andando a studiare dal punto di vista grafico sto andando a studiare una retta che si presenta con pendenza negativa terzo punto di vista il punto di vista matematico quello più amato dagli studenti quando studi un argomento in microeconomia macroeconomia politica economica inizia a studiarlo da diversi punti di vista questo ti aiuterà moltissimo nella comprensione della materia quando studiamo il vincolo di bilancio dal punto di vista matematico ci accorgiamo da subito che abbiamo a che fare con che cosa con un'equazione l'equazione che puoi trovare la seguente r è uguale a p1 per x1 più p2 per x2 su altri manuali puoi trovare scritto per esempio i la famosa id income è uguale a prezzo del bene x per x più prezzo del bene y per y diversi modi anzi il modo è sempre lo stesso a sinistra dell'equazione il reddito e a destra ho prezzi e quantità dei beni solo che puoi andare a trovare delle lettere diverse a seconda di come il docente vuole andare a raccontarti questa cosa per esempio se studi sul varian a posto della io della r trovi m però il concetto di base è sempre lo stesso cambiano le lettere ma il significato è sempre lo stesso giustamente chiediamoci che cos'è più 1 più 1 rappresenta il prezzo e bene 1 ma è un qualsiasi tipo di bene questa immagine ci dà l'idea che si tratta di un bene che possiamo andare ad acquistare quindi sì abbiamo a che fare con un bene che possiamo andare ad acquistare dal computer allo smartphone all'avvocato alla chitarra al caffè a quello che più ci piace ok è un qualsiasi tipo di bene p2 rappresenta il prezzo e il bene 2 è sempre un qualsiasi tipo di bene la risposta affermativa è sempre un qualsiasi tipo di bene a questo punto è rimasto da comprendere solamente e semplicemente cosa sia r r rappresenta il reddito a disposizione del nostro consumatore esempio pratico tizio o anche caio oppure sempronio ha un reddito mensile di 5000 euro in questo caso già stiamo parlando di una specifica forma di reddito reddito monetario o reddito nominale 5000 euro è un valore del reddito espresso in valuta per questo motivo lo chiamiamo monetario o nominale quindi per studiare il vincolo di bilancio abbiamo bisogno di conoscere tre elementi reddito prezzo del bene 1 prezzo del bene 2 per il momento ci fermiamo qui appuntamento al prossimo video saluto daliva e un saltetto non